Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio della nostra serie su ISPRO2 Signori, stiamo facendo la Master League, siamo con la Roma e la partita d'esordio l'abbiamo persa 1-0 contro il Rio de Janeiro Signori, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto Vi ricordo di iscrivervi al canale nel quale abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti Signori, senza vostro aiuto non ci possiamo arrivare Detto questo, signori, siamo pronti e carichi per questo secondo episodio Avanziamo nel turno, avanziamo Procede all'incontro successivo, si deve procedere all'incontro successivo, si E andiamo avanti, signori, vediamo un attimino Vediamo un attimino come, 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 chi ci tocca, signori Allora, vediamo un attimino la formazione, le impostazioni di formazioni Allora, i miei sono molto su, tranne, io devo cambiare formazione Devo capire come si cambiano le formazioni, signori 4-4-2, questo, va bene Abbiamo cercato bene, quindi direi di non, di non, di non stravolgere troppo Miranda è un poco giù di morale E qui ci posso mettere a posto di Miranda Ok, un M.A. Abbiamo un M.A. Oswald Oswald, è un pochino più alto Va bene, signori Ha giudicato, però ha giudicato Oswald Diamo fiducia a Oswald Non so a chi cazzarola sia Iniziamo la partita Roma-Parma Attenzione, attenzione La situazione si fa seria La situazione si fa seria Ci siamo, ci siamo Dobbiamo portarci a casa Una vittoria, signori Non possiamo perdere pure contro il panno Non ci sto, non ci sto Non ci sto Oh Quanto cazzarola corre questo? Che cazzarola corre? Oh Oh Scusatemi Va bene che è amoroso Però che cazzarola Scusa, scusa zio Scusa Benissimo ragazzi Benissimo Partiamo male Partiamo proprio male Cioè ha fatto quello che voleva Ha fatto quello che voleva Ma noi non siamo qui a cincischiare Vero Castello? Vero Castello Non siamo qui a cincischiare Guarda Falli vedere quanto si è forte Castello Va bene, va bene Siamo riusciti a arrivare in area Questo è già qualcosa di interessante Questo è già il fatto che siamo riusciti a arrivare in area Già sono contenti Però dobbiamo un attimino Riprendere le nostre posizioni in campo Dobbiamo un attimino riprendere le nostre posizioni in campo Ma no Perché siamo tornati indietro? Bufala di una miseria Calma, 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 calma Signor Giochiamo, ce la giochiamo C'è calma, calma, calma No Questo intervento non dovevo farlo Non dovevo farlo Questo intervento L'ho perso L'ho perso Non lo so I nostri difensori ci stanno? Non lo so Ha fatto quello che voleva La Tia End Si è trovato da solo in area Ha fatto una sforbiciata Che porca miseria Calma, calma, calma Bellissimo Quest'azione No Siamo messi proprio male Siamo messi Attenzione a Moruso Attenzione a Moruso Attenzione a Moruso No Che cavolo Ronaldo Allora Allora Fermi, 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 fermi Via, via Via sta palla Via sta palla Bene, così Bene, così Ok Porca miseria Lo sapevo che Lo sapevo Ma riusciamo a uscire Signori Riuscite a uscire Porca di una paletta Ambriaca Riusciamo a uscire Perché non mi fai passaggi giusti Crespo Ortega Porca miseria Pensavo che il palma fosse più abbordabile Invece, signori miei Siamo proprio messi male Siamo proprio messi male Via, 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 via No, vabbè Abbiamo evitato il calcio d'angolo E gli ho servito la palla al centro Praticamente Va bene Va bene Riusciamo a recuperare Oh, perfetto Partiamo in contropiede Espimas Espimas Va bene Va bene Va bene Siamo al diciassettesimo E stiamo subendo In una maniera paurosa Signore Siamo al diciassettesimo E stiamo subendo In una maniera paurosa Però adesso c'è un break C'è un break, signori C'è un break C'è un break Espimas Espimas la può più Crossare Mamma mia Come l'hai cassata male Zia Mamma mia Come l'hai cassata male Però ci siamo Ci siamo affacciati Dalle parti di Parma Abbiamo fatto capire al Parma Che non possono fare Quello che vogliono Ci siamo affacciati Dalle loro parti Hanno capito che Ci sono due squadre in campo E non ci sono solamente Loro in campo Calma, calma, calma Dagliela Oh, peccato Non ci sta il tocco di mano No Mi è sembrato Un grosso tocco di mano Foser Contro Espimas Espimas è mio Ti sta addoppiato Espimas è mio Non te lo vorrei dire Ma ti ha addoppiato malissimo Calma Oswald Oswald Fammi vedere che non ho sbagliato A metterti in campo Oswald Calma Calma No Perdere sto valore Bravissimo Espimas Bravissimo Espimas Tieni Tieni Buono Buono Rimesso laterale È nostro No È nostra È nostra No Com'è che è loro Ma perché è loro Ma porca di una paletta Ambriaca Come fa a essere loro Se l'ho presa io Dai 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 È grandissimo così Balotta 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 Ce l'ho il difensore Bravissimo Jorga Jorga si fa vedere Jorga si fa vedere La crossa Provaci Provaci Tu provaci Signore Ci stiamo Ci stiamo Ci stiamo Ci stiamo Avvicinando Stiamo prendendo le misure Stiamo prendendo le misure Certo In porta loro C'hanno un certo buffone Che non è L'ultimo degli arrivati Quindi Non siamo proprio messi Proprio bene Attenzione Balotta 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 No porca miseria Mi faccio prendere molto Dalle situazioni Attenzione Attenzione Ci siamo Stiamo crescendo Signore Stiamo crescendo Stiamo crescendo Stiamo chiudendo il Parma Nella sua metà campo Ottimo questa situazione Fu così Che loro ci fece Il 2 a 0 Senza neanche chiederci Chiederci niente Praticamente Se mi segnavano Dico Era veramente da Da No No Fuori Va bene Va bene Va bene Va bene Dino Baccio Dino Baccio Dino Baccio Va bene Va bene Va bene Va bene Riusciamo a creare un break Un piccolo break Un piccolo break Bravo Oswald Grandissimo Oswald che parte Oswald è partito Oswald è partito Ho ritardato a dargli la valla Ho ritardato a dargli la valla Mannaggia Va bene Va bene Valeri 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 Va che è tuo Grandissimo Valeri Guarda se la fascia Pespe Vattene Vattene Ximenes Ximenes Vattene Vattene Ximenes Vattene Ximenes Che sei solo Vattene Ximenes Vattene Ximenes 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 Abbiamo tenuto bene il campo Nel resto della partita Quindi ci sono buone speranze Buone speranze per il secondo tempo Buone speranze per il secondo tempo Ce lo possiamo fare Secondo me ce lo possiamo fare Grandissimo Non perdere palla lì con Amoruso Perché succede il delirio Guardalo 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 Bellissimo No Da dove è spuntato quello lì Da dove cazzo Si è spuntato Mannaggia Da dove cazzo Riusciamo a fermarlo signori Siete in due Non lo so Lo volete accompagnare all'asilo pure No Mamma mia Mamma mia Questa è la crossa No è però Crespo signori E noi però Ero sicuro Che l'avremmo messa fuori E invece Abbiamo preso il 2 a 0 Buco completo Non ha neanche saltato signori Non ha neanche saltato Beh Sotto di due gol Sotto di due gol Contro il Parma Sotto di due gol Contro il Parma signori È grave? Eh sì Penso di sì Abbastanza anche Però noi non demordiamo Noi non demordiamo Ximenes 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 Caccia l'angolo Va bene Va bene Va bene Partito A chi? Ma che cazzo Di calcio D'angolo è stato? Siamo messi malissimo Siamo messi malissimo Aspetta 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 Grandissimo Valeri Grandissimo Valeri Ci salva Valeri Signori Stromer Stromer Bravo Questo Calma 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 Gioghiamo Oswald Oswald Bellissima apertura Per Balotta 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 Cazzo Balottonino Perdiamo 2 a 0 Perdiamo 2 a 0 Siamo messi Veramente Male Veramente Male Il nostro Allora Sembrerebbe Nostra Da come Corre Il terreno Dalla Roma Sembrere Nostra Ok Buono Buono Espimas 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 La cross Al centro Peccato 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 Ci siamo creati Una buona Occasione Ci siamo creati Una buona Occasione Non siamo Riusciti A sfruttarla E va Ma allora Ci hanno Crespo che alto Due metri Signori Ci hanno Crespo che alto Due metri Non riesco Niente A prenderla Di testa Con Crespo E codino Baggio Però Porca miseria No Mi sono Giato Sbagliato Ma non Ce ne Freghiamo Recuperiamo Il pallone Grandissimo Così 1 2 1 2 Veloce Vai Oswald Vai Oswald Vai Oswald No Balotta Mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Balotta Mia Mamma mia Attenzione Amoruso Attenzione Amoruso 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 Partita Amoruso Bravo Iva 9 presente Bravo Iva 9 presente Dai Ciocala Ciocala Ma 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 Il raccogliere Olive Ma Attenzione Attenzione Non ci crediamo Però Ci crediamo Ci crediamo No Deve essere più veloce Nei passaggi Porca di una paretta Umbriaca Deve essere più veloce Nei passaggi Da posto Crespo Se lo beve Stromer Crespo Entri in aria Valla Bandirina Voleva Perdere tempo Il buon Stromer Il buon Crespo E invece La voglia Rincubrata Alla Roma che ancora ha 0 gol in campionato 0 gol in campionato al 31 del secondo tempo della seconda partita di campionato riusciremo? non lo so però siamo qui e cercheremo di giocarci al team fallo e io a chi cazzo fallo posso? guardalo buono fermati guardalo, 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 bello così tu crossala, tu credici vai che dici, mannaggia 35esimo no, guarda che ci aspettano maledetti 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 signore ok, ok via così, via così, via così vai, 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 vai parti Spimas, parti Spimas ho bisogno di velocità su quella fascia Spimas buone cross, buone cross non c'è stato il destinuto attenzione Ximenes, Ximenes di quanto è uscita sta valla di quanto cazzo l'ora è uscita sta valla guarda che ci aspettano questa però è bastardata dai, non vuoi non posso, non si posso eh, così impari così impari no ma no ma questo è veramente bogottaggio signori voglio il VAR ma nel primo fallo in partita stiamo a perdere 2 a 0 me lo butti fuori dai ma non mi puoi fare queste cose dai Jorga dai Jorga dai dai Jorga dai Jorga dai Jorga dai Jorga dai Jorga dai Jorga no 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 prima grande azione della Roma Buffone che cosa è riuscito a prendere mannaggia non ci voglio credere che sia riuscito a prendere Buffone mannaggia poteva essere il nostro primo gol in campionato e niente signori minuti di recupero Crespo sta a fare quello che vuole se n'è andato da solo nessuno lo va a chiudere e caccia non lo va a fare mamma mia 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 l'ho detto mamma mia che non è la canzone dei Queen ma è mamma addirittura il papà del ben famoso Marcus che gioca adesso nel Vinter il papà Lilian Turano ai tempi giocava nel Parma sì ai tempi giocava nel Parma prima di passare alla Juventus giocava nel Parma va bene possiamo concludere la stavartita perfetto seconda trambata signori abbiamo preso una sveglia subito dopo pochi minuti con Amoruso e poi la chiusa la chiusa crespo su assist di Vanoni bene seconda sconfitta su due partite signori questa Master League va benissimo alla grande signori alla grande siamo tutti soddisfatti alla grande rimaneva sempre a 20 punti bene 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 così vedo questo signori qui va di male in peggio ma noi non demordiamo non abbandoniamo signori noi ci vediamo qui domani con un prossimo episodio ecco ma siamo pronti a continuare questa serie signori perché dobbiamo riuscire ad ottenere la promozione siamo Roma e Fiorentina sono le uniche due squadre a 0 punti West MN a 1 e Arsenal e Amsterdam viaggiano in pole position praticamente prime a 6 punti bello signori continueremo continueremo bella raga ciao 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 ciao